Stamattina facciamo manutenzione dell'orto. Abbiamo poi un problema con le melanzane, vedi, stanno incominciando a diventare gialle e a seccare. All'inizio abbiamo pensato a un fungo, abbiamo pensato a varie cose, abbiamo un problema di talpe. L'abbiamo notato perché abbiamo dei buchi topi, non ce ne sono, guarda, vanno a scavare, ora non si vede ma si sente, vedi, stanno andando a fare dei tunnel. Questo qua è dato probabilmente dal fatto che guarda quanto è ricco il terreno di insetti, solo da una manata guarda quanta biodiversità c'è. Andiamo a togliere se dovessero esserci qualche foglia gialla, questa qua sta un pochino più soffrendo, lo vediamo dal colore. Il colore che deve avere la pianta di piperoni è questo, quando è così vuol dire che è in sofferenza. Secondo me qua vicino, eccola qua la buca, qua stanno passando ancora le talpe. Anche qua siamo quasi a fine ciclo, vedi che si stanno abbronzando tutti, aspettiamo un attimo a toccarli.